sono una cavi oggi fatta un avviso tre ore fa oggi fatta un giro costano qua iban ha fatto iban ha visto ma mi stanno spottando mi stanno spottando questo si vanno giri si stanno spottando portagrande portagrande ci sta lo sento però questo mi spottano questo lo sono dove sta quindi dimmi dove io ho scattato se lui viene stalla lo sento o se viene dall'altro lato te lo dico perché io la diretta la diretta un di buchi del rapporto mamma mia tu poker nato poco amico ma cosa bella che moff